Qualifiche del Gran Premio della Cina, si torna a correre a Shanghai dopo la pausa, lo stop forzato per la pandemia l'ultima volta che si accorse qui nel 2019. Buongiorno, buongiorno da Manuel Codignoni che va in onda grazie alla collaborazione di Danilo Giunta in regia e di Sergio Ciani alla console. È in corso il Q1, innanzitutto una notizia sul meteo, non c'è rischio pioggia a differenza di quanto è successo ieri, ricorderete, la qualifica rocambolesca anziché no per la gara sprint condizionata dalla pioggia, soprattutto nel Q3 con tante polemiche anche per il tempo cancellato e poi ridato a Lando Norris. Ricordiamo anche la vittoria di Max Verstappen nella gara sprint di questa mattina all'alba alle 5. Ora italiana, Verstappen ha vinto davanti a Hamilton e Alonso, poi le Ferrari quarta e quinta, tra l'altro anche con un po' di maretta tra i due ferraristi, con una lotta molto serrata e anche abbastanza spigolosa tra Sainz che aveva la macchina leggermente danneggiata dopo un contatto con Fernando Alonso e Leclerc, Leclerc che si è addirittura lamentato di Sainz direttamente in macchina dicendo corre più duramente con me che rispetto a tutti quanti gli altri avversari, ma qui si sono un po' mind games da piloti, con lo stesso Sainz che poi ha cercato un po' di fare il pompiere dicendo forse mi sono difeso un po' troppo duramente, potrei aver esagerato ma aveva la macchina che non ne aveva più dopo il contatto, fatto sta che i due probabilmente, certamente, si saranno parlati, Fernando Alonso che beliggiava in zona podio, diciamo così, nella sprint race di questa mattina, salvo poi, diciamo, sprecare tutte quante le sue possibilità in un contatto con Carlos Sainz che gli ha portato alla foratura di uno pneumatico e dunque poi al conseguente ritiro, Orlando Norris con la McLaren, che è stato il grande sconfitto di questa mattina, partiva dalla pole, un po' da pollo, scusatemi il gioco di parole, ha bruciato questa pole nella prima curva con quel vecchio volpone di Hamilton che si è preso la prima posizione e da lì, insomma, rimontare non è stato facile, è stato lui il grande sconfitto lungo Hamilton, attenzione, leggero bloccaggio, potrebbe aver perso qualche decimo, aveva un mezzo secondo di vantaggio, diciamo, come margine nei confronti della quindicesima posizione, vediamo quanto ha perso e se ha perso e adesso sul rettilineo del traguardo prenderà la bandiera Scacchi, dodicesimo, dodicesimo. Un po' a fatica, tranquillo fino a un certo punto, anche perché dietro io sono piloti che possono migliorare il tempo, infatti Ricciardo si porta in una posizione, attenzione perché dietro Hamilton ci sono Russell, Leclerc, che al momento è quindicesimo, tutti i piloti che però si stanno migliorando, anche Leclerc, che al momento è pilota a rischio, viene messo fuori da Strolla che si porta all'ottavo posto e dunque mette momentaneamente fuori Leclerc e a rischio Russell, Russell Cassol si migliora, sale in quinta posizione e adesso uno tra Hamilton e Leclerc salterà, perché Gasly sta migliorando, Corsa sta migliorando, ma si sta migliorando anche Leclerc e parecchio, con tanto di parziale record nel secondo settore, 34 e 7 per non saperne leggere né scrivere, Verstappen si porta al comando scalando la classifica e mettendosi alle spalle Norris, adesso a chiudere il giro mancano praticamente solamente le due Alpine e poi la Ferrari di Leclerc che al momento è eliminato, col cuore in gola Gasly si porta al nono posto mettendo già fuori Lewis Hamilton e a rischio Magnussen con Leclerc, diciassettesimo, sta per arrivare anche Stefano Kona che al momento è diciottesimo, undicesimo tempo per Stefano Kona, entrambe le Alpine vanno a passare il taglio, a questo punto mancano solamente Leclerc e Zonoda, Leclerc arriva a seconda posizione, Leclerc seconda posizione, mette a rischio Sergio Perez che è scivolato in quindicesima posizione, Yuki Zonoda arriva adesso sul traguardo, resta diciannovesimo, a questo punto manca solamente Magnussen a prendere bandiera a scacchi, però è già nel suo giro di rientro, non si è migliorato, passa il taglio per il rotto della cuffia per appena 40 millesimi, Perez eliminato giù, delusione per Guagno giù e Lewis Hamilton diciottesimo, Lewis Hamilton diciottesimo anche lui, non passa il taglio, eliminati giù Magnussen, Hamilton, Zonoda, Surgent, passa il taglio per il rotto della cuffia Sergio Perez, miglior tempo per Verstappen, Leclerc secondo, Sainz quarto, ma abbiamo già una notizia, Hamilton ha eliminato qualcuno. Attenzione, c'è un testa a coda di una Ferrari, testa a coda della Ferrari di Sainz all'ultima curva, la macchina di Sainz sbatte anche, tocca, bacia, diciamo così, il muro con la posteriore destra, speriamo che non abbia riportato danni, bandiere gialle, qui potrebbe arrivare anche una bandiera rossa nel caso in cui non si riuscisse a far ripartire la macchina di Sainz, colpo di scena, testa a coda, bandiera rossa, bandiera rossa, 6 minuti e 44 del termine delle qualifiche, qualifica sospesa per la testa a coda di Carlos Sainz che dice sto bene, del resto l'urto è stato molto poco violento con il muretto, altro colpo di scena di questa qualifica con il testa a coda di Carlos Sainz, su una curva medio veloce, diciamo, perché è una curva che si affronta a velocità abbastanza alta, Carlos Sainz che adesso da regia ci mostra il rettilineo, è arrivato leggermente largo, ha pizzicato la sabbia all'uscita della via di fuga nell'ultima curva con la gomma posteriore destra e la macchina gli è partita, diciamo, per la tangente andando a sbattere. Adesso Carlos Sainz riprende la via dei box ma con la sua macchina, tra l'altro, senza lettone anteriore, evidentemente danneggiata anche nella lettone anteriore. Stanno lavorando molto lacrimente sulla vettura per andare a sostituire il musetto e questo ci fa pensare che potrebbe riuscire a rientrare in pista, tanto che il pilota è rimasto comunque all'interno della vettura, probabilmente sono stati controllati anche i dati nel corso di questo giro di rientro dalla telemetria per capire se effettivamente la macchina è dritta oppure no. A questo punto è chiaro che la lunghezza della bandiera rossa, che noi non siamo ancora in grado di quantificare, aiuta la Ferrari perché più a lungo va avanti questa bandiera rossa, questa neutralizzazione, più tempo c'è per effettuare le verifiche sulla Ferrari di Sainz che lo ripetiamo ancora una volta. È andato a sbattere nel corso dell'ultima curva, nel suo primo giro lanciato nel Q2, è riuscito comunque a riaccendere la macchina e a rientrare ai box e gli è stato sostituito del musetto, gli sono stati tolti anche gli pneumatici, forse ce la fa, mi sbilancio, forse potrebbe riuscire a riprendere la via della pista. La buona notizia è che la Ferrari di Sainz è stata riparata, la buona notizia è che la Ferrari di Sainz potrà riprendere la via della pista e potrà cercare insomma di togliersi da questa quindicesima posizione che andrebbe nettamente a compromettere il suo fine settimana. Si è migliorato nel primo parziale, non nel secondo parziale Carlo Sainz che dunque ha una macchina inefficacia ma non totale, bisogna vedere anche quanto ci dice, diciamo quanto dipende dalla vettura e quanto dipende dal pilota, dal feeling del pilota. Siamo alla staccata adesso verso il tornantino che porta verso le ultime due curve tra cui l'ultima che gli è stata fatale. Si sposta adesso verso destra, pronto a girare verso sinistra, gas spalancato quasi in pieno per andare ad affrontare il riterino del traguardo e far segnare un tempo, Sainz si porta in seconda posizione, seconda posizione, tempone visto considerato tutto quanto per Carlo Sainz a mezzo secondo da Verstappen. Arriva Albon a quattordicesimo che non riesce dunque a migliorare, non passa il taglio e sarà eliminato al pari di Ocona che ha già preso bandiera a scacchi. E' eliminato anche Ricciardo perché Leclerc arriva sul traguardo e fa segnare il terzo tempo, dunque due Ferrari alle spalle della Red Bull e di Verstappen. Sta per arrivare anche Perez che ha fatto segnale il parziale record nel primo settore, si è migliorato anche nel secondo e nel terzo e si porta in seconda posizione. Dunque Verstappen, Perez, Sainz, Leclerc, questi primi quattro, poi Norris, Russell sono già i box in quinta e sesta posizione, Alonso, Piastri, Hulkenberg e Bottas. Uno sguardo al monitor dei mini parziali per vedere se c'è qualcun altro che si sta migliorando. Non è così e allora eliminati Stroll, Ricciardo, Ocona, Albon e Gasly passano il taglio. In quest'ordine Verstappen, Perez, Sainz, Leclerc, Norris, Russell, Alonso, Piastri, Hulkenberg e Bottas. Se ne è già andato metà Q3, tutti i piloti hanno già ovviamente effettuato il loro primo tentativo con Max Verstappen che comanda la classifica con il tempo di 1.33.9. Alle sue spalle, Fernando Alonso, autore di un giro magico con la sua Aston Martin, quindi Sergio Perez, terzo con l'alta Red Bull, a seguire le due McLaren di Norris e Piastri. In quarta e quinta posizione le due Ferrari di Sainz e Leclerc al sesto e il settimo posto, staccati di sette decimi, quindi Nico Hulkenberg, George Russell e Valtteri Bottas che non è ancora scelto in pista, evidentemente ha scelto il pilota finlandese del team Sauber di effettuare un solo tentativo in corso di questo Q3, a giocarsi la pole position, due Red Bull, due Ferrari, due McLaren, Aston Martin di Fernando Alonso, la Haas di Nico Hulkenberg, la Sauber di Valtteri Bottas e la Mercedes di George Russell. Verstappen in posizione di relativa tranquillità, ma l'istinto del cannibale è quello di cercare comunque di migliorarsi, di cercare di voler trovare il limite della propria vettura, soprattutto perché, insomma, pur essendo un tempo devastante, non ha rifatto il tempo fatto nel Q2 e i campioni. Si distinguono anche da questo perfezionismo estremo in ogni tipo di dettaglio, non lascerà nemmeno un centimetro di intentato, secondo me Max Verstappen, per cercare di migliorare il suo tempo che potrebbe già bastargli per la pole in realtà. Sainz è il primo dei big ad effettuare il suo tentativo cronometrato, si è migliorato nel primo parziale, ma è comunque a circa due decimi dal tempo di Verstappen, si è migliorato leggermente anche Leclerc, adesso ha impegnato Sainz nella parte mista del tracciato, adesso curva verso sinistra in pieno che porta poi alla staccata, sinistra, destra in accelerazione verso il lunghissimo rettilineo, un chilometro e trecento metri che porta verso la parte finale della pista. Anche questa è una curva che va affrontata con pazienza, perché ti viene voglia a ridare gas, complice anche il banking, complice anche l'inclinazione, ma devi resistere alla tentazione di farlo solamente quando sei certo che poi non devi più togliere il gas e dunque ti lanci in questa sorta di rampa di lancio. Non si migliora nel secondo parziale, Carlos Sainz fa invece segnare il parziale record nel secondo settore. Charles Leclerc che dunque ha la possibilità di andare a guadagnare posizioni. Terzo tempo per Russell, terzo tempo per Russell con la Mercedes, la pista si sta velocizzando o Russell ha fatto un gran tempo o probabilmente entrambe le cose. Adesso Sainz è all'ultima curva, quella che gli è stata fatta nel Q2, ogni minimo millimetro sfruttato da parte del pilota Madileno della Ferrari che arriva sul traguardo. Secondo tempo per Sainz a tre decimi, capolavoro di Sainz nel terzo settore. Sta per arrivare anche Leclerc che porta la sua Ferrari in seconda posizione a sua volta, otto millesimi più veloce rispetto a Sainz. Al momento dunque Verstappen, Leclerc, Sainz. Arrivano le McLaren, arriva Piastri, secondo si migliora e mette i fiori le Ferrari dalla prima fila. Verstappen, Piastri, Leclerc, Sainz. Bottas decimo, resta in ultima posizione per quello che riguarda i piloti qualificati al Q3. Arriva Norris sul traguardo con il tempo di 1,34 e 165 secondo. Dunque Verstappen, Norris, Piastri alle spalle di Verstappen, le due McLaren. Verstappen che si migliora, 33,6 e dunque abbassa ulteriormente il limite rifilando mezzo secondo al primo degli inseguitori. Sta per arrivare Fernanda Alonso, dopodiché arriverà Sergio Perez che sarà l'ultimo dei piloti a chiudere il giro, l'ultimo dei piloti a definire la classifica. Fernanda Alonso, secondo tempo per Fernanda Alonso, la zampata del leone della Sturie. Verstappen, Alonso, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz. Arriva Perez, secondo e allora la nuova classifica. Pole position per Max Verstappen, 1,33,6 alle sue spalle. A tre decimi, Sergio Perez, prima fila tutta Red Bull. Seconda fila, Alonso, Aston Martin. Gran tempo da parte del pilota dell'Aston Martin, Norris McLaren. Quindi Piastri quinto con l'altra McLaren e le Ferrari in sesta e settima posizione. A chiudere la classifica, Russell ottavo, Hülkenberg nono, Bottas decimo. Red Bull imprendibile, ha una dimostrazione di forza importante per la squadra anglo-austriaca.